Pago, noto anche come Pacifico Settembre, e Serena e Nardu si sono di nuovo lasciati, la voce si sta diffondendo rapidamente tra i fan della coppia. Recentemente l'ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla questione, lasciando intendere che potrebbero esserci dei problemi. È possibile che una nuova rottura si sia consumata con il cantante, poiché da circa un mese non si mostrano insieme sui social. Molti hanno cominciato a chiedersi se si fossero separati. Serena e Nardu ha spiegato tramite una serie di storie su Instagram che non tutto può essere condiviso e che ha imparato a essere cauta riguardo alla sua vita sentimentale. Ha dichiarato di essere in una fase di ripresa e cura, chiedendo di rispettare la sua privacy. Le sue parole lasciano intendere che qualcosa si sia rotto di nuovo nella relazione con Pacifico, che per il momento non ha commentato la situazione. La storia d'amore tra Pago e Serena e Nardu è stata tormentata da alti e bassi fin dal 2019, quando hanno partecipato a Temptation Island VIP. Dopo il reality la coppia sembrava solida, ma si sono separati. Successivamente si sono riuniti e tutto sembrava procedere bene, fino a una nuova rottura nel 2020 con attacchi reciproci. Nel 2022 Pago e Serena sono tornati insieme, ma ora si parla di una possibile nuova crisi. La coppia ha affrontato molte difficoltà nel corso degli anni, ma i fan sperano che possano superare anche questa prova. Resta da vedere se i due riusciranno a risolvere i loro problemi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!